Stamattina, due mesi dopo la nostra richiesta, siamo riusciti ad accedere come minoranza consigliare a Villa Matarese. Abbiamo sicuramente sia delle buone notizie sia delle cattive notizie per i cittadini. Tra le buone notizie, una già la sapevamo, sicuramente Villa Matarese è di grande pregio, è una struttura assolutamente capace di creare a prima vista ad un cittadino, a me io stamattina l'ho vista per la prima volta e la ritengo sicuramente di grande impatto, sia visivo che emotivo. A parte la bellezza di Villa Matarese però che noi non contestavamo già sette anni fa quando si parlava dell'acquisto, noi parlavamo cosa si vuole fare di Villa Matarese e soprattutto il costo che sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini, questi famosi 4 milioni di euro che ad oggi ancora stiamo pagando. Tra le notizie positive, questa è sicuramente la grande bellezza della struttura, ma tra le note dolenti purtroppo abbiamo visto che nonostante il direttore dei lavori ci parla di lavori in imminente consegna, ci sono ancora dei piani in uno stato di degrado, di abbandono, come lo vogliamo chiamare. Questi famosi affreschi di cui tanto ci parlava il sindaco Giannuzzi che diceva avrebbe celebrato i matrimoni sotto questi sontuosi affreschi, sono cadenti, si stanno scollando, stanno cadendo a pezzi. Tra l'altro registriamo a malincuore che i lavori eseguiti due o tre anni fa oggi già avrebbero bisogno di ulteriore manutenzione, quindi a breve posteremo su internet con il nostro profilo Facebook Svolta Popolare, ma sicuramente le daremo anche agli amici di mondediprocita.com delle foto che riprendono il bello e il brutto di Villa Matarese, perché poi con onestà intellettuale bisogna dirlo che sicuramente è una struttura che lascia bocca aperta, però è anche sicuro che questi lavori che dopo sette anni ci avrebbero dovuto dare qualcosa alla cittadinanza, profondamente vessata dalle tasse per pagare Villa Matarese, oggi ancora non abbiamo nulla e non lo sappiamo. La nostra azione è stata d'impulso perché oggi abbiamo visto delle persone dopo mesi che lavoravano, che pulivano a terra, abbiamo smosso di nuovo gli ingranaggi comunali, quindi di questo siamo fieri, però non riusciamo ad oggi a dare una data sicura tra 15 giorni, tra due mesi, tra tre mesi, tra sei mesi. Io penso che questo non lo possiamo fare né noi né tanto meno l'amministrazione comunale. Grazie a tutti.